Se perdevi con gli USA, non serviva niente quello fatto col gara. Dov'è salire giusto, aspettare lì c'è facile, però per gli errori sicuramente stiamo un po' non studiando. Poi con il gesto folle di Daniele De Rossi. Siamo arrivati in dieci dalla Buzzo del Triniton. Senza espulsione sicuramente la battuta è definita in modo diverso. La seconda è sempre stata brutta la partita più difficile a livello psicologico. Soffrimo. Questa è stata una partita dove l'attenzione finisce un piso. Questa è stata brutta la partita. 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 Grazie a tutti.